Il cancro al seno è il tumore femminile più diffuso. Ogni anno si registrano 38.000 nuovi casi che si aggiungono alle oltre 450.000 donne che già convivono con la malattia. Lo screening mammografico è fondamentale per la diagnosi precoce e la riduzione del rischio di mortalità, ma in Italia solo il 70% delle donne tra i 50 e 69 anni viene invitato ad un controllo biennale e appena il 36% delle aventi diritto esegue la mammografia. In Puglia 19.000 donne convivono con la malattia ed ogni anno si registrano 500 decessi e 1.800 nuovi casi. Nel 2008 è stato invitato all'analisi il 28% delle aventi diritto, il 30% delle quali ha aderito. Solo la Sicilia ha fatto peggio. I dati sono emersi in un forum istituzionale organizzato a Roma da Salute Donna, una onlus che ha approntato una mozione parlamentare sostenuta dall'onorevole Gabriele Carlucci ed ha scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute. Chiediamo che la salute deve essere garantita allo stesso modo in tutta Italia, quindi chiediamo una commissione, super parties, coinvolgendo le regioni, che faccia un controllo sulle regioni dove gli screening non vengono attuati o vengono attuati male. In più chiediamo che in questa commissione vengano coinvolte le associazioni dei pazienti. Io vorrei ricordare naturalmente che quello che fa il governo è un'azione di coordinamento. I fondi sanitari sono messi dalle regioni ed è quindi la responsabilità delle regioni e degli amministratori regionali. Quello che il governo può fare è dare delle linee guida. Un passo importante per diffondere gli screening, secondo il Ministro Fazio, è la recente legge 69 che consente alle farmacie di diventare centri di cura e prevenzione di primo livello. Un esempio di territorializzazione della sanità simile a quello adottato in Basilicata dove tre camper girano l'intera regione per la prevenzione di tumori al seno. Noi dal 99 abbiamo lo screening attivo in tutta la regione Basilicata e abbiamo la copertura del 100% della popolazione con un'adesione importantissima del 60% come l'avamo visto è una delle poche regioni, anzi l'unica regione nel meridione che ha questi numeri, queste coperture.